Amici ma soprattutto gli amici bianconeri, buongiorno, buongiorno ragazzi, sono d'accordo con Oppini, con Francesco Oppini, strano ma vero, ma sono d'accordo con Francesco Oppini, ha rilasciato lui una, ha fatto una dichiarazione sulla sette sport se non sbaglio, e sono pienamente d'accordo su quello che dice per quanto riguarda il festeggiamento che qualcuno ha ritenuto eccessivo, addirittura inopportuno del napoletano per la vittoria dell'Argentina, e sono ripeto pienamente d'accordo con Francesco Oppini, perché come dice lui il Napoli, il tifoso napoletano è legato all'Argentina, da questo cordone ombligare che ormai è indissolubile, che lo lega a Maradona a vita, ad eterno, perché il Napoli non è che ha gli scudetti che hanno la Juve, la Mina, l'Inter, il Napoli gli unici scudetti che ha gli ha da Diego Armando Maradona, un argentino, quindi sono legati al pipe d'oro, alla mano di Dios, al Diego Armando Maradona, sono legati quindi al popolo argentino, e alla fine è una cosa che non fa male a nessuno, che non offende nessuno, sono una sorta, come dice lui, di cugini eterni, e questa è una bella cosa, io la ritengo una cosa giusta, la ritengo una cosa assolutamente corretta, ripeto anche perché il Napoli non è una squadra che ha vinto tanti scudetti, quindi fare polemica o dare dei giudizi non positivi su questa vicenda, penso che sia fuori luogo, quindi io sono pienamente d'accordo con Francesco Piri su questo discorso, e quindi per me il tifoso napoletano non fa nulla di male, non fa nulla di male, ed è giusto anzi, ed è giusto, ripeto, lì c'è una sorta di fratellanza indissolubile, ed è giusto così, ed è giusto così, complimenti, anzi non me l'aspettavo di Francesco Oppini che esprimesse questo suo pensiero, e sono d'accordo con lui, è fatto bene, bravo, applausi, ed è giusto, ed è giusto, perché la ricerca della polemica, dove non c'è polemica, e secondo me è sbagliata, va bene, va bene così, va bene così, certo che forse in Argentina sono stati troppo esagerati i festeggiamenti, addirittura sul pullman stavano per essere presi dai fili del tram, quelli che si buttano dal ponte per entrare dentro l'autobus, e uno si è sfracellato tutto, e lì bisogna avere un po' di contenimento quando si festeggia, perché ragazzi, la salute è la vostra, non è che vi dovete fare male, e quindi forse lì c'è stata un'esagerazione, ma d'altronde il calcio è questo, d'altronde la gioia che ti porta a certi risultati ti fa fare proprio pazzia, il calcio è questo, il calcio è questo. Ci vediamo dopo, vediamo magari di parlare di qualche altra cosa, magari di Allegri, si parla di Zidane, si parla di consiglio di amministrazione, oggi devono essere presentati, domani se non sbaglio devono essere presentati così il CDA, vediamo, per ora è tutto ancora in fase di stallo, è inutile che si fanno proclami, torna Zidane, non torna Zidane, arriva Zidane, non lo so, per ora c'è tutto, è una situazione di stallo. Comunque, masticci incazzati, fino alla fine forza io.